Ringrazio Esther Esposito un'altra volta ancora perché è stata la sua pazienza di dovermi sopportare, di dover avere un regime, un regime dove non esiste uno sbaglio, perché al primo sbaglio io mi incazzo da guerra, peggio del peggior cane da guerra che mangia carne morta agli angoli delle strade di Brooklyn o di Manhattan e mangia anche i sorgi.